Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanachi e presento questo webinar dalla sede di Milano di IG Markets in via Correnti 12. Lo scopo di questo webinar è quello di capire come funziona il sistema di marginazione con IG Markets. La prima cosa che voglio sottolineare è che la marginazione non è un costo, bensì è una garanzia. È una garanzia che IG Markets vi chiede per poter aprire le vostre posizioni e quindi è un qualcosa che IG Markets blocca sul vostro conto in termini appunto di garanzia. Da quella che è la richiesta di margine nasce o meglio si sviluppa quello che è il concetto di leva. La leva come si ottiene? Si ottiene dividendo 100 per la percentuale di marginazione richiesta. Vi faccio un esempio molto semplice. supponiamo che la richiesta di margine sia il 10%, si fa 100 diviso 10 uguale 10. 10 è la leva che avete su quello strumento finanziario. Ora, vediamo come potete vedere attraverso la piattaforma di IG Markets quelli che sono i margini che noi richiediamo. Vediamo ad esempio un titolo azionario come Fiat. Prendiamo Fiat, lo visualizziamo in prezzi. Cliccando sul tastino appunto Tools, altre opzioni, all'interno dei dettagli operativi possiamo vedere quello che è il margine richiesta. 10% in questo caso. Quindi abbiamo una leva 10 per Fiat, intraday così come multiday. È necessario notare che quello che IG Markets vi chiede in termini di margine di garanzia non fa differenza tra quelli che sono appunto le posizioni intraday e le posizioni multiday, quindi mantenute nell'overnight per più di un giorno. Questo è estremamente importante perché molti broker hanno margini differenti per quello che è l'intraday e quello che è l'overnight. Per quanto riguarda gli indici, i nostri margini sono ancora più bassi. Prendendo ad esempio il contratto sull'Italy 40 che è il nostro CFD sull'indice italiano l'SPMib, ci rendiamo conto che è estremamente basso e nel caso specifico, parlando di un contratto mini si parla di 1.500 Euro a fronte di un controvalore di 20.400 Euro in questo momento perché sappiamo che il contratto mini, lo vedete qua, vale 1 Euro per contratto. Anche in questo caso cliccando sulla voce Dettagli operativi potrete vedere quello che è il margine richiesto. Quindi visualizziamo in prezzi il contratto italiano, dettagli operativi, margine per contratto 1.500 Euro. Perfetto. Vediamo come si può ulteriormente ridurre il margine con IG Markets attraverso l'utilizzo di stop loss. Se voi vedete gli stop loss ad esempio a 300 punti che comunque è una distanza ragionevole, il margine che vi viene richiesto si riduce da 1.500 Euro a 300 Euro. 300 Euro che cos'è? Non è nient'altro che la perdita potenziale. Ebbene sì, voi con IG Markets avrete un margine richiesto sugli indici votati 24 ore equivalente alla perdita potenziale. Questo è, IG Markets è l'unica società in grado di offrirvi un margine di questo tipo. Per quanto riguarda altri strumenti come le valute o le azioni c'è un piccolo fattore di slippage che andiamo a richiedere oltre la perdita potenziale per quanto riguarda i requisiti di margine. Viene fatto salvo comunque il concetto che nel momento in cui viene inserito uno stop loss il margine si riduce in maniera significativa. Vediamo con Fiat, un esempio abbastanza rapido, riprendiamo il titolo Fiat, eccolo qua. Supponiamo di voler comprare 1.000 Fiat, il margine a fronte di una posizione di 5.400 Euro è 541 perché abbiamo una leva a 10. Inserendo uno stop loss a 20 punti di distanza, quindi a 5.20 nel caso di acquisto, il margine si riduce in maniera significativa appunto a 362 Euro. Quindi, ricapitolando, il margine è una garanzia, IG Markets ha i medesimi margini intraday e multiday, inserendo stop loss il margine si riduce ancora di più. Quindi potete aumentare la vostra leva. Io spero di essere stato chiaro, per qualunque richiesta di chiarimento o spiegazioni siamo disponibili dalle 9 alle 19 presso il nostro ufficio milanese e ci potete contattare al numero verde gratuito anche dai cellulari 800 897 582. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.